E' stato l'altro ieri, l'altro ieri con Asso 9, flop Asso 7-10, io Asso 9, l'altro sono Jack, 12.000 all-in, a torne 9 e da allora non ho perso più. Ti rivedremo nelle altre tappe del Power Poker Championship? Sì, sì. Ci puoi dire così brevemente le tue esperienze, da quanto giochi? Vabbè, ma gioco così, giocavamo nei showdown, fare dei tornei così, questo è il primo torneo che faccio seriamente all'op. Beh, complimenti, ti lascio andare a ritirare il tuo meritato premio. Grazie. Good game, ciao. Ciao. Grazie. 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 Grazie.